grazie per essere passata grazie a voi, mi siamo praticamente dal finito grazie facciamo una palla? si ehi tu sei esagerato due, 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 ventiquattro, cinque non è che la sera vada nelle scarte non è che la sera vada nelle scarte facciamo tutto scusate grazie a tutti grazie ciao ciao ragazzi grandi dei minuti allora io clicco qua io clicco qua io ci metterò un po' di tempo io ci metterò un po' di tempo io ci metterò un po' di tempo ma proprio tu per loro? si per questo no è vero vi giuro da Roma per loro tutto loro passano da Roma ma io non potevo andarci allora ci metterò un po' di tempo allora che poi devo fare? grazie 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 ciao 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 ragazzi stai venendo da Roma eh per l'ora ma io mi stanno sapendo bene tu? bene bene ma ha più successo Jacopo mi fa io non vorrei fare quella cattiva mi pare che ha più successo tu ma fai finta di non notare mi sembrisci il giorno proprio quello di una scuola non mi canta guarda guarda ci è andata ecco qua aspetta che vi faccio se così via la certo grazie allora ci salutiamo che di là? si guardate qua guardate qua allora non farà no ecco qua oh no allora voi dovete dire ciao aspettate dovete salutare il giugno e poi quando ragazzi il caffè lo vallate adesso quando può svegli le mani di più parole vostre per queste due le tredici mucche salutiamo le tredici mucche muuuu ciao raga un grande abbraccio buuuu un consigliato a tutti ciao Giulia ciao 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 cos'è che fai qua a firmare i libri vai a lavorare vado 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 subito questo che vuoi vedi pure il palcento ecco la mamma è provata si prima la facciamo allora vai mettere il palcento amicine ok ripetiamo la persona di Daniele Daniele basta andare in libria vai a casa vai a spiegare vado il palcento ragazzi 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 aspettate un attimo che vengono anche mamma e papà prego io con questo ombrellino c'è sicilia glielo glielo mardo io famigliare scusate dai venite grazie movimento dietro sì sì in mezzo occhio infatti siete per la famiglia ciao a tutti i lettori ciao a tutti i lettori di Catanzaro Informa mi raccomando leggete perché è importante e studiate anche noi diventeremo i vostri lettori abbiamo appena scoperto leggeremo tutto ciao